Non andiamo alla rottura, chiediamo di confrontarci sui contenuti ed è qui che si crea la complicazione perché ci viene risposto in maniera, tra virgolette, violenta. Noi abbiamo più numeri di voi, quindi state zitti e andate avanti. Noi questa cosa non la possiamo mai accettare. Replica così il capogruppo di rifondazione comunista al comune dell'Aquila, Chico Perilli, agli attacchi del sindaco Massimo Cialente, che minacciando il ritorno anticipato alle urne, continua a lanciare strale a Perilli e i suoi alleati riottosi. Reo di aver presentato un emendamento, poi respinto dal voto in aula, ma solo grazie al sostegno del centrodestra, che intendeva stralciare dal piano trennale delle opere pubbliche il progetto relativo alla seggiovia di Monte Cristo, già finanziato. Un ammutinamento, un boicottaggio dello sviluppo degli impianti scistici di Campo Imperatore per il sindaco e il PD. Normale dialettica interna la maggioranza ribatte per il. La nostra posizione è semplicissima, non è complicata. Noi chiediamo su alcuni temi, primi quelli ambientali ma non solo, chiarezza. Se dal capogruppo del PD Stefano Palumbo, rifondazione viene poi definita presenza problematica all'interno della maggioranza, il comitato referendario che vuole far uscire l'area scistica di Campo Imperatore dal parco e vuole realizzare nuove infrastrutture, arriva a definire Perilli un sultano dell'ambientalismo. Non so che cosa voglia dire, sultano, dell'ambientalismo. Immagino che da sultano ci si possa sentire bene, ma non è una sensazione che purtroppo provo. In realtà noi sul Gran Sasso abbiamo detto da anni quello che adesso sta avvenendo, cioè che l'impianto delle nuove fontari aveva dei limiti normativi e tecnici e sarebbe stato bloccato. Così è accaduto.